C'è una novità importante per la cura del tumore del pancreas metastatico. L'Agenzia Italiana del Farmaco, infatti, ha appena approvato la rimborsabilità di un nuovo trattamento basato sulla nanotecnologia, cioè l'irinotecano liposomiale peghilato, indicato anche con la sigla NAL-IRI, per pazienti con tumore del pancreas metastatico dalla seconda linea in avanti. Alcuni centri italiani, tuttavia, hanno già avuto l'opportunità di fare esperienza con questa nuova opzione terapeutica, grazie a un meccanismo di accesso anticipato e di raccogliere informazioni importanti sull'efficacia di questo farmaco nella pratica clinica. Noi ne parliamo con la professoressa Sara Lonardi dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, che è uno degli ospedali che appunto hanno potuto utilizzare NAL-IRI già prima del via libera dell'Agenzia Regolatoria Italiana. Professoressa, oggi appunto parliamo dell'arrivo in Italia di questo nuovo farmaco NAL-IRI, rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, però il suo centro, insieme ad altri dieci centri italiani, in realtà ha già avuto modo di utilizzarlo e di raccogliere dati, fare esperienza. Ci spiega un po' qualcosa in più? Sì, abbiamo avuto la possibilità, subito dopo che i risultati dello studio Napoli 1 sono stati resi disponibili. L'azienda che al tempo possedeva la molef con la Scheir l'ha resa disponibile per due anni per l'utilizzo ad uso nominale, quindi una certa quota di oncologia in Italia ne ha fatto richiesta e ha già cominciato a trattare i pazienti con NAL-IRI più fluoruracile secondo le stesse indicazioni che erano previste nello studio Napoli 1. Abbiamo quindi raccolto i dati di questi circa 300 pazienti che avevano ricevuto il farmaco proprio per verificarne l'efficacia in una popolazione che non fosse così selezionata strettamente come quella del trial ma che fossero poi un po' i pazienti della pratica clinica. E che risultati avete ottenuto appunto in questo studio? Ma devo dire che siamo stati molto rassicurati dai nostri dati perché appunto sebbene i nostri pazienti fossero un pochino più svantaggiati in termini di condizioni di partenza rispetto a quelle dello studio abbiamo tuttavia raggiunto gli stessi risultati del tutto comparabili con una sopravvivenza di oltre sette mesi e una sopravvivenza un tempo prima della progressione ulteriore di malattia di oltre tre mesi. Oltre a questo non abbiamo verificato nessuna tossicità in attesa quindi abbiamo in un qualche modo riprodotto nella vita del paziente di tutti i giorni quello che si era osservato invece nello studio in una popolazione ben selezionata e ben definita. Ecco al di là di aver dimostrato cosa che ovviamente è molto importante la comparabilità dei risultati che si ottengono in pratica clinica con quelli dello studio registrativo i dati che avete raccolto vi danno anche delle informazioni in più delle informazioni aggiuntive? Sì abbiamo ottenuto anche questo perché lo studio Napoli 1 è uno studio che purtroppo sembra buffo perché il farmaco noi ce lo abbiamo ora ma è uno studio che è un po' già vecchio e quindi la popolazione che era stata arruolata non rispecchia in realtà quella che noi oggi andremo a trattare in particolare perché oggi la maggior parte dei pazienti riceve in prima linea gencitabina nappaclitaxel invece era una minoranza nello studio Napoli 1. Il nostro studio ha permesso di verificare che nel 70 per cento dei pazienti della nostra popolazione che hanno ricevuto a quella che oggi è ritenuta la corretta sequenza gencitabina nappaclitaxel seguito da floruracilena liri ed è la sequenza che troviamo nelle linee guida europee, americane e finalmente anche italiane. Ecco in questa popolazione più moderna e trattata in maniera più adeguata possiamo ottenere una sopravvivenza mediana di oltre 16 mesi. Questa è un'informazione che prima non c'era e che ci fa vedere un miglioramento clinicamente rilevante rispetto all'atteso che purtroppo in questa popolazione spesso è inferiore all'anno. E dunque professoressa per concludere diciamo che cosa cambia sia per voi clinici che appunto prendete in carico i pazienti con tumore del pancreas sia per i pazienti stessi con l'arrivo di questa novità cioè con l'arrivo di NAL-IRI questo farmaco liposomiale peghilato rimborsato dal sistema sanitario nazionale. Quello che cambia è che fin dall'inizio della presa in carico del paziente possiamo ipotizzare un trattamento di sequenza. Sappiamo che non abbiamo più un unico trattamento su cui giocarci le nostre chance ma possiamo ipotizzare una sequenza con una prima linea a base di gencitabina che può essere con uno schema a due farmaci fino anche a uno schema di quattro farmaci per poi utilizzare una doppietta a base di NAL-IRI in seconda per poi magari riutilizzare uno xaliplatino e un fluororacile in terza. Questo dà una prospettiva di medio periodo che sicuramente è più rassicurante per il paziente e che anche per il medico stesso è una iniezione di fiducia in più come dire nel modo in cui ci si accosta al trattamento di questa malattia.